Ciao a tutti, lunedì sera a Terni si gioca a Subutio perché il Subutio Club Terni 2014 che fa parte del circuito Wasp, un ranking, è una speciale classifica di Subutio amatoriale organizza per tutti lunedì sera presso la loro sede che si trova a Terni in piazza della pace numero 19 delle serate dedicate al Subutio, al calcio alla tavola, al calcio a miniatura dove potete tranquillamente recarvi presso la loro sede appunto e giocare a Subutio con il Subutio Club Terni 2014 quindi per qualsiasi informazione vi invito a contattare i membri del Subutio Ternano del club di Subutio Ternano attraverso le loro pagine social e potete organizzare il vostro lunedì di Subutio in piazza della pace numero 19 con il Subutio Club Terni 2014 e provare ad avvicinarvi o comunque continuare la vostra passione per questo sport